5 Diana Vreeland after Diana Vreeland La storia di una donna che ha cambiato l'immagine della moda Palazzo Fortuni, vicinissimo a San Marco uno dei gioielli veneziani frutto della visionarietà dell'artista Mariano Fortuni che ne fece la sua abitazione, laboratorio di luce, fotografia, pittura, abiti e tessuti Oggi la storia di un uomo eclettico si sovrappone a quella di una donna leggendaria che ha rivoluzionato l'immagine della moda Andiamo a vedere Diana Del Ciel nasce nel 1903 a Parigi padre inglese e madre americana presto si trasferisce a New York nel 1924 diventa Mrs. Vreeland una sofisticata socialite con uno sguardo aperto e anticonformista 1903-1989 lei ha vissuto i primi anni seminali per tutta quella che è la cultura contemporanea nasce in una famiglia cosmopolita brutta con una madre bellissima e una sorella bellissima fin da piccola capisce che la personalità è tutto e si costruisce un personaggio Diana Vreeland ha una carriera folgorante quando inizia a lavorare nelle più prestigiose riviste di moda dell'epoca e nel più importante museo new yorkese cambia tutto Mrs. Vreeland è stato un personaggio carismatico e assolutamente irripetibile e non riproducibile ha cambiato tutto quello che era stata la moda fino ad allora diventata fashion editor di Alpe Basar ha creato quella che è la figura del fashion stylist del fashion editor ha cominciato con Avedon ad andare a lavorare sul set con i fotografi con le idee molto chiare e indicando al fotografo il tipo di immagine che voleva lei è colpevole di un crimine estremamente estetico che è quello di avere trasferito il concetto di chic che era totalmente parigino in un nuovo concetto americano che è il concetto di smart tra impegni professionali e mondani Mrs. Vreeland riesce anche a fare la nonna in un modo davvero speciale nonnina era la mia nonna lei si è sempre rimasto un tourè di gente giovane e penso che la cosa che è fascinante oggi è che c'è tanti bloggers che cercano a capire di più su Avedon e Vreeland e che c'è tramite dinervreeland.com assolutamente era un pioneer lei era la prima a portare un creatore il museo è prima di portare un creatore vivante con una collezione vivante attiva e importante nell'ambito di un museo per cominciare a creare la memoria del futuro è giusto dare conto è giusto indagare è giusto approfondire le personalità che hanno veramente inciso sul nostro modo di vivere a Palazzo Fortuni Diana Vreeland after Diana Vreeland fino al 25 di giugno il corpo maschile era la sua magnifica ossessione in mostra gli scatti di Robert Mappeltor some trying to warn me about your acting skills this ain't as a method in the way you feel